E benvenuti in un nuovo video tutorial Oggi siamo qui per sbagliare dove trovare le prove incriminanti a Gattaglil e a Gattaglil Vi farò vedere prima le prove a Gattaglil e poi andremo a Gattaglil e a Gattaglil Per far vedere le altre Allora ragazzi Per prima la prove Davanti a questo contenito Vedete qua davanti Davanti e qua A me non mi escono perchè già l'ho fatta la mission Qua ragazzi Le sepoglie Vedete ragazzi Qua Davanti a questo contenito Giola Qua ragazzi Adesso la cosa si troverà qua Adesso la cosa si troverà qua Non so perchè ma non mi appare il pitone Cioè ecco ragazzi la cosa si troverà qua Ma non mi appare Però si troverà proprio Si trovano qua quelle pezze Ora invece ragazzi andiamo Ci quando Non ci asます Qualcate Entra Ab precise Eorsi Be super aching C'è Ecco Ci Mi Allora, il primo al barrio della linea si troverà per la mano. Allora, eccola qua, entrare qua dentro, appena entrare qua dentro, entrare qua dentro e entrare qua dentro. Ok, in seguenza, andiamo davanti a quel video, andiamo nella parte centrale, andiamo alla sinistra, andiamo alla sinistra, andiamo alla sinistra, e ora andiamo alla sinistra. Andiamo ad andare nella parte di lì. dietro a tutto proprio eccole qua dietro a tutto anche questo pentino affianco a questo bidone eccole qua ecco qua abbiamo fatto anche questo vi ricordo di lasciare like in descrizione ci vediamo in un prossimo video fino a quel momento ciao